Ciao a tutti! Scusa! Però non mi ha senso sono stata un po' riflette sul canale, su questo canale che ho creato mi stava venendo in mente forse di chiuderlo perché ci sono state delle cose che non mi sono piaciute mi riferisco soprattutto al fatto che ci siano stati ci sono delle persone che rubano letteralmente i video di di alcuni ASMRtist per poi guadagnarci su monetizzando i canali copia diciamo questa cosa mi ha dato un po' fastidio perché comunque non lo trovo giusto però mi rendo conto che nella società quando si tratta di guadagnare si arriva a farti tutto a me dispiace molto di queste cose e mi dà anche fastidio magari quando ci sono dei piccoli disguidi o comunque quando ci sono persone che magari facciano di tutto pur di apparire però mi rendo conto che nella società ripeto diciamo che posso dire che è una cosa normalissima anche se a me fa fastidio però quando si tratta di di guadagno è così soprattutto in questo periodo di crisi credo che i soldi siano il centro diventano il centro di ogni valore la cosa è molto triste beh perché posso capire arrotondare magari monetizzando un canale arrotondare quei pochi euro al mese ma giusto per giusto per giusto per potersi concentrare meglio poi per fare altri video ma sempre a livello amatoriale tipo non so qualcuno si può comprare un microfono migliore o una videocamera o non so fin quando è una cosa semplice una cosa che viene spontanea va bene però quando si fa di tutto anche rubare i video altrui per creare un canale monetizzato la cosa mi dà parecchio fastidio eh nulla questa cosa che ho scoperto qualche giorno fa di un canale creato non si sa da chi potersi anche comunque anzi forse ne sono sicura che non sia un canale una persona italiana però ha rubato i video di di una ragazza e le ha caricati sul suo canale il quale lo ha monetizzato la cosa mi ha fastidio no no non voglio dire il nome del canale perché in questo modo lo pubblicizzerei ma sono cose comunque che hanno dato succedono e non è l'unica non è non è l'unica volta sono successe anche cose del genere in passato quindi non non allarmatevi o comunque nulla il mio ora adesso il mio è semplicemente mi ha dato uno sfogo perché appena ho saputo di questa cosa ci sono rimasta male però non incuriositi e cercare di voler capire quale sia il canale perché non voglio pubblicizzarlo non voglio pubblicizzarlo anche perché questo canale più più visita più guadagna quindi non sarebbe giusto lo scopo di questo video che sto facendo adesso e si da un certo punto di vista si rilassare però soprattutto diciamo comunicare e spiegare il motivo di come mai ho evitato di caricare dei video perché ripeto è l'accaduto mi ha fatto molto riflettere non vorrei mi ha fatto molto riflettere sul fatto di tenere aperto di continuare ad avere un canale o per chiuderlo stavo pensando di magari non lo so di di cancellarlo completamente magari in futuro ne avremo un altro senza gelare senza mostrare il mio volto e senza dire il mio nome perché comunque sono mi darebbe fastidio che qualcuno potesse rubare qualcosa in cui si veda parte di me o nulla e e ancora non ho deciso completamente se continuare quindi a tenere questo video questo canale non so sono un po' delosa mi sento un po' delosa però mi scuso se è magari do lo spirito giusto per rilassare però ho là magari vi vorrò sapere nel prossimo video cosa ho deciso poter sì che continuerò magari magari togliendo i video in cui si vede si vede si vede il mio volto per il momento le ho quasi tutti oscurati ne ho lasciati ne ho lasciati soltanto due anche se non ho saputo di di quei ti ho rubati ho cancellato o oscurato tutti i video però adesso ne ho aperti due purtroppo purtroppo sono una persona molto impazzia se decido di fare una cosa la faccio nonno sono solo solo riesco a convincermi se se continuerò meno non mi lascio convincere dagli altri in quel momento ho avuto l'intensità di decidere tutto però adesso deciderò se continuerò o meno e comunque se continuare ad utilizzare questo canale oppure prenderlo con un nome dentato e io come poche parole ci ho messo il posto e il nome che l'hanno fatto in molti ovviamente mica sono unica però non so sono sono un po' forse sono un po' portavolare ma nulla ci tenevo comunque a comunicare a dirvi che quello che mi è successo è ci inizierò ancora su qualche altro giorno e poi poi deciderò se continuare o a prendere nuovo o non ci vedrei totalmente anche perché da quando mi sono sposata e la sera vado a dormire vado a dormire presto e non ho il tempo di ascoltare i video e tantomeno di non ho più il tempo di fare registrare e la vita matrimoniale anche se non lavoro mi è rompata per molto tempo e siccome ho anche altre attività anche sempre di hobby di passioni non riesco davvero poco o non riesco bene ad incastrare i tempi è nulla e volevo comunque ringraziarvi tutti per essere ci stati finora e volevo ringraziare tutti quelli che continuano a sostenermi nonostante tutto e poi volevo ringraziare due persone in particolare che sono e e butterfly whispering che è una ragazza davvero davvero molto profonda ed è una bella persona mi è sempre piaciuta come sia come la sml diste ho avuto un modo di di avere contatti con lei sempre sempre hollanda e è davvero una bella persona e e poi l'altra ragazza è il medic kitten un ragazza molto molto semplice che a me piace tantissimo per il suo modo di fare per la sua spontaneità diciamo con cui si si pone senza secondi figli senza conto non è una bellissima insomma davvero molto dolce sono queste due ragazze sono davvero mi piacciono davvero tanto proprio come persone al di là del dei loro canali mi sono state sempre accanto mi mi sono sentita sempre incoraggiata da loro e nulla vi saluto in particolare due alla prossima alla prossimo video vi farò sapere cosa avrò deciso un bacio a tutti ciao